Io vado, cioè leggo risposta, cioè non risposta, non è che sta risposta esatta, vado a sensazione. Lo sai che i nomi delle bambine nate nel 2016 più diffusi sono Sofia, Aurora e Giulia? Sofia Alvaro Soler, Aurora Eros Ramazzotti e Giulia perché sono le vibrazioni, quindi penso che nel 2050 si avranno tutti i frutti, anche le femmine. Lo sai che il nome più diffuso dei bambini nato nel 2016 in Italia è Francesco? Francesco! Lo sai che uno dei nomi meno diffusi fra i bambini nel 2016 è Ermene Gildo? Eppure è un nome molto bello da dare a un bambino se lo odi. Ermen è Gildo! E effettivamente avevano ragione. È meglio perché magari unisco con un fatto che non lo sapevo. Eppure paura, perché vado. Eppure paura, perché non lo s Eppure paura, perché non lo sapevo. Grazie.